Oh cazzo davanti e contro! Visto? Grazie da volta uno! Andiamoci andiamoci! Merda non ci andiamo più! E' sotto Cristo la madonna! Quanta gente! Visto dov'è? Atterrato! E' ucciso! No cazzo! Eh ragà! Andiamo a farci load out! C'è gente qua dentro eh! Sta a salire eh! Ma gente! Vengo qua! Io salgo sul tetto appena vengono qua! Eccoli cinque metri! Una mano raga! A terra uno! A terra due! Ci sono! 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 Un altro, ci sono! è andata in the quarters io ho fatto cambia idea per questo anche questo che arriva cazzo a terra ok ma cisa ce l'ha finito ragazzi quanti cazzo di bombe avete lanciato voi io scusa perché pensavo che ti fosse qualcosa no vabbè vabbè a terra o una croquete l'ha atterrato l'ha atterrato grazie d'alta uno sto in seguendo uno io raga sto vedendo un masso di gente raga uno distrutto questo qua non ha vita eh raga sto un po guardando ovunque ma non vedo nessuno io ah eccolo atterrato fatti da te c'è uno me lo finisci atterrato dove? eh dalla finestra tipo oh no va coperti va coperti eh cazzo vieni fra vieni eh ci provo copriti arrivo 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 non fa la metà vittima no esattamente no cazzo aspetta 4 3 2 non si lascia mai un soldato indietro mamma mia però quei figli puttana quei figli puttana mica corazzi tolte uno vai tolgo se oh ucciso troppo a distanza se mi seguite forse riusciamo a salire su prison senza essere visti ma io niente più riuscito cazzo ritorno disattivato 2 secondi occasioni stanno tutti su vieni qua zii vieni qua to' pia di queste le compro altre le compro altre to' raga me non lasciate 15 di corazze vai piate 15 che non lasciate 5 a testa raga qua stanno 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 metri da dove mi hanno preso ma da dietro da qua italiani ucciso dimendato cazzo raga che casino ci siamo due di due di uno siamo gli unici assoluto è merda ormai ecco qui sono gira e gira e gira e gira e c'è uno dietro pezzo ben vinto gg assolutamente gg 10 kill raga lo d'auto fuori di testo minchia raga bestia di satana si chiamava l'ultimo minchia ragazzi doppie marco e barra assurdi a comunque 10 il 4200 danni l'ho clacciata malissimo e io sopprime in vera c'è ma ti rendi conto? lui dice perchè me l'ha rubato tutto nooo vabbè eh z raga eh z per andare sopra eh bombardamento ma morta a loro eh un tizio un tizio un altro tizio eh raga saliamo saliamo tutti saliamo tutti eccole uno morta a lui ucciso eh raga vabbè 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 o questo che arriva tutto c'è gente quella che è accato ma non l'ho distrutto ragazzi l'ho mangiato raga davanti a terra uno ucciso ah è one shot si si proprio one shot a terra un altro mezzo cazzo ok c'èノ questa facendo dei devasti o che c'è un'altra fara ok magari altro la metà verso di qua raga ma mi mirano tutti da dietro porca eccolo no raga sulla torre di merda non ci crede Calcatori non muoio. Entrate dentro entrate dentro, l'ho scogliato. Dentro dentro! Vai vai vai, Raga ce la vede un bombarda? Eh cazzo no! No... Editata... Eh e niente vaffanculo. Raga, la stiamo a vedere, è inutile! A parte che c'è un cecchino in trapossera! Nonono, nono, che dov'è in fondo! Dietro, 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 dietro! Eh, vabbè, ovunque sanno! Morto, 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 morto. Morto da dietro. Porca puttana, aspetta che resto il nostro compagno. Lo resto io, lo resto io, vai. Ma perché mi mirano dietro se non c'è nessuno? C'è il muro. No, c'è gente dietro, c'è gente dietro. Eh, ma c'è il muro qua. Una mina, una mina non ce l'avete? Raga, a terra uno! Ucciso! Salta gente davanti, raga, chiudete la porta! Subito! In senso fuori! Aspettate, aspettate, aspettate! Minchia che casin... eh, vabbè! A terra un altro! Ucciso anche lui! Eh, l'ultimo sta sulla torre! Dove è ancora? Quello c'è, vabbè! Sì, sì, sulla torre, sulla torre sta! Sì, visto? E questo che cazzo è? E questo che cazzo è? No, raga, mi serve una mano ora! Ce la fate! Eh, è caduto, è caduto, è caduto! A posto, a posto, a posto! C'è andato qua! Eh, raga, arriva gente su gente! Raga, mi servono piastre! Mi servono a tutti i piastre, non solo a me! Fanno il chillato, fanno il chillato! Oh, raga, qua davanti! C'è uno che si è preso not out, cazzo! Dove? 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 Lì! Godo! Bravi! Altri? Ancora? Ma basta! No, una domanda! Ah, no! Eh, nessuno allora, vabbè! No, o meglio, nessuno! Eccolo lì! Atterrato, lo stupido! Ragazzi, mi segna a 39 metri di qua, quindi in quella cazzo... Sì, sì, lo so, lo so! Stanno sui tetti, boh, penso, boh! Ragazzi, 21 metri verso di qua, eh! Sempre nuova! Atterra uno da nuova, però Chris mandeva stato anche a me! Se me la confermano, magari quella cazzo di kill! 11 metri verso di qua, ragazzi! Qua sotto sono! Eh, destra, destra! Non lo so dove! La, 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 la! Cristo, dunque io devo scendere! Eh, inutile, inutile, inutile! Inutile, inutile! Inutile, inutile! Quello lì, invece, muore! Sicuramente! Colpo a segno! Sul... L'elicottero stanno, sull'elicottero! Raga, possiamo dire di avere un culo rotto! Eccoli, ragazzi! Ragazzi, sentite sul tetto, sentite sul tetto! Sì, immediatamente! Adè! Cazzo! Arrivo! Arrivo, arrivo! L'elicottero! Nessun'altro! Cazzo! Corazzo è alta a lui! La giua! Nemico qui! Craccato! Raga, è quasi a terra, quel coglione di merda! Non ci credo! No, 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 non ho fatto il culo! No, sì, 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 vabbè, dai! Sono sei, cioè, sono... 1,6, ragazzi! Sì, vabbè, brah, che devo fare? Uno è qua, eh! Beh, raga, ma non è possibile! Non mancano un colpo che sparano questi! Beh, mi sono troppato! Non, non, non... No, anche io me ne vado! Sì, sì, ce la fu! Me ne son dato, me ne son dato, me ne son dato! Via, 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 via! Cazzo via! Come il goto, quello di prima aveva otto piastre goto! Goto, goto, tantissimo goto! 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 No, raga, stanno tutti sopra! Ma che se fa? Shadow, puoi farla... No, non ci voglio credere! Cristo, di un Dio, non ci lasciano sta un attimo! Un attimo! Da, no, io me ne vado di qua! Via, via, via! Entro dentro! Ma un fottissimo shop non c'è? Sì, ce l'ho! Ce l'ho mobile! Il problema è se me lo vanno a piazzare! Giù! No, raga! C'è un puttanaio c'è! Ma no! Ecco che l'Hoop! Ciao, c'è bene! L'Hoop! Come to me! Come to me! Come to me! Andrà tutti nelle scale, poi! C'è uno davanti che non mi ha visto! Eh sì! Ma dov'è la safe? Shadow piazza qualcosa mobile! Eh, frate dove? Aspetta! Nemi safe lo piazzo, vai! Qua non puoi! Vado davanti, vado in avanti! Ma non ci farsi sono altri! Quattro ce n'è a testo! Quattro ce n'è a testo! Quattro ce n'è a testo! No, non mi dire che... A testo, a testo, a testo! Sono due! Uno ucciso! Fanno a zotto! Cristo di un Dio! Uno c'è a testo! No, frate! Non so se ce la può! Non ti assicuro nulla! In atta! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Me ne vado! Grande cazzo! due porca ecco di uno no ragazzo mi devo coprire cristo ma dov'era safe che usa lì invece una lì sopra l'ho craccato e te l'ho craccato quella sul tetto minchia raga siamo 4 v raga siamo 4 v 1 vai dove cazzo è l'ultimo abbiamo vinto cazzo gg gg e 5 kg dai non è andata malice un film sta partita porta puttana un film che chiara raga tra i miei partito da 45 kg 3144 fratello di passati tutti li ho craccati tutti col mitraglione cazzo ci siamo a zi scappavano tutti come delle puttanelle c'è per supportare anche ora minchia easy ragazzi lo stacco ok capito ciao ciao cazzo edz porca puttana